Un'occasione per stare in compagnia all'insegna della musica e della buona cucina, con un'anima solidale e un occhio di riguardo per i bambini meno fortunati. Torna sabato 28 luglio in via Fosse a Villa Raspa di Colceresa la festa di beneficenza in campagna giunta all'ottava edizione. In programma il pranzo e poi l'inizio del concerto con un tributo ai nomadi. Il ricavato della giornata organizzata da una famiglia del posto sarà devoluto alla clinica di oncoematologia pediatrica di Padova.